A completare il rendezvous degli anticipi della non aggiornata di Serie D, Gironet, il match del Faragian di Albissola con i ceramisti difossati ai margini della zona playoff e con Real Forte in apnea nei fondi della classifica con soli 6 punti. Gara che si sblocca subito nel primo tempo, metà frazione è da Playstation, la triangolazione che mette Raja davanti a Fontana al gastro del centrocampista, si spegne all'incrocio dei pali, l'1-0 mette le ali e Bianco Celesti, ben nati dal limite alla mezz'ora, Fontana a mani aperte. Dice di no, Alex Pontedera, la prima frazione si chiude col colpo di testa di Colombo che schiaccia troppo e spreca il raddoppio, ripresa che inizia ancora con l'11 difossati in avanti al minuto 7, Cargioli aggancia e gira, la sfera carezza l'incrocio dei pali. A 20 dal termine però arriva la doccia fredda per i padroni di casa perché Ferretti scatta sul filo del fuorigioco, se ne va in doppio passo e in diagonale col sinistro realizza la rete dell'1-1. Il pareggio regge e sarà il risultato finale anche perché a tempo scaduto la punizione di Vignale termina alta di poco.